La discarica di Autigno e i rifiuti del lato Bari 5 smaltiti a Brindisi. L'argomento principale della conferenza stampa convocata dai partiti di opposizione di centrodestra verte sulla situazione che l'autorizzazione da parte della regione prorogata di trimestre in trimestre ormai da nove mesi autorizza il conferimento appunto dei rifiuti di una zona del barese nella discarica di Autigno gestita dalla ditta Nubile. Il 21 giugno abbiamo depositato un'interrogazione urgente da discutere il prossimo consiglio comunale insieme al collega Riccardo Rossi sul conferimento dei rifiuti del lato Bari 5. Su questa vicenda c'è stata l'ulteriore proroga e quindi arriveremo a circa nove mesi, quindi tre proroghe che la regione ha calato sul nostro territorio senza che l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gonzales abbia proferito parola e si sia opposta nelle sedi giurisdizionali deputate. Sono state fatte anche alcune dichiarazioni che per quanto ci riguarda sono gravi dal punto di vista politico nella misura in cui il sindaco dichiara che l'amministrazione non interessa chi ci guadagna e chi ci perde da questa vicenda. L'amministrazione comunale, quindi il comune, è proprietario dell'impianto di Autigno, della discarica e su questa vicenda avrebbe dovuto trattare direttamente con lato Bari 5 e senza far gestire direttamente a Nubile la vicenda e chiedere un congruo ristoro per questo danno ambientale, cosa che invece non è. E i numeri parlano chiaro, parliamo di circa 4.000 tonnellate di rifiuti sversati nella discarica mese che per dieci mesi fanno circa un milione e mezzo di euro che la ditta introiterà senza che al comune e alla città ne vada nessun tipo di vantaggio. Qual è il regalo che ci fa la regione, complice il partito democratico che governa quella regione con illustri rappresentanti istituzionali come Pino Romano che è il capogruppo alla regione o Elisa Mariano parlamentare che su determinate tematiche ambientali non sono sempre intervenute, su questa vicenda non intervengono e nulla dicono come il silenzio assordante dell'amministrazione comunale. Altro argomento scottante della conferenza stampa è la situazione del porto di Brindisi che starebbe perdendo opportunità a vantaggio di Bari che invece dal punto di vista navale starebbe facendo fiorire il proprio porto a discapito di quello brindisino. Sulla vicenda del porto sono intervenuto io personalmente per chiedere chiarezza e per denunciare anche una questione che ritengo importante e che non ammette risposte del tipo dove eri, dove eri, dove eri perché in questi anni c'erano tutti i governi. Il porto di Brindisi è in fase proprio di declassamento sotto tutti i punti di vista e c'è un'operazione strategica pensata a vari livelli che immagina di assorbire Brindisi a Bari. Quindi ho lanciato l'allarme anche alle mie forze politiche e sto iniziando a vedere le prime reazioni ma vorrei capire poi quali nello specifico. Quindi davanti a queste cose Gonzales risponda se riesce a rispondere in maniera educata se ce la fa questa volta a farlo lo faccia perché questo è un conto che deve dare a noi e alla città.